Ciao a tutti e benvenuti su TokuRobot, canale dedicato all'animazione robotica e fantascientifica giapponese e alle serie televisive giapponesi di Stambo Tokusatsu, Super Sentai e Kaiju. Oggi sono qui per recensire il manga di Tetsujin 28 di Mitsutero Yokoyama, nello specifico il primo volume che narra le origini del primo super robot della storia dei manga e degli anime fantascientifici giapponesi. L'opera purtroppo è inedita in Italia ma comunque merita lo stesso di essere recensita e approfondita per la sua grande importanza storica, tenendo conto che è proprio attraverso Tetsujin 28 che nacque il genere robotico tipico giapponese che ispirerà da lì in poi tutto il mondo della fantascienza nipponica. I robot comunque già esistevano prima ma con Tetsujin 28 nacque l'idea del primo super robot gigante della storia in assoluto e dei robot prima di Tetsujin magari parleremo più avanti. Chi è Mitsutero Yokoyama, l'autore di Tetsujin 28? Yokoyama nasce a Cove nella prefettura di Yogo nel 1934 e iniziò ben presto a disegnare manga quando era ancora uno studente. Egli visse in prima persona il dramma della seconda guerra mondiale durante l'evacuazione della città di Tottori. La paura e la traumatica esperienza provata furono tali da spingerlo a incidere quei sentimenti nelle sue storie a fumetti e nei suoi personaggi. Ispirato dalle immortali opere del maestro Osamo Tezuka, in particolare l'opera di Metropolis, Yokoyama continuò gli studi presso le scuole superiori con l'intento di diventare un giorno anch'esso un prodigioso mangaka come Tezuka. Dopo essersi diplomato superò un concorso per banchieri e iniziò a lavorare presso una banca ma decise di licenziarsi dopo solo cinque mesi dall'assunzione in quanto non aveva intenzione di rinunciare alla sua passione per i manga. Yokoyama allora trovò un secondo lavoro come dipendente presso una piccola compagnia cinematografica di Kobe, cogliendo l'occasione di inviare le sue storie e i suoi bozzetti alle diverse case editrici giapponesi con la speranza che il suo sogno si potesse realizzare. E così fu. Nel 1955 infatti Yokoyama ricevette la sua prima commissione dall'editore Tokudo di Osaka che gli permise di debuttare come mangaka professionista con le sue prime opere intitolate Otonashi no Ken e Shiraiuri Monogatari. Il successo fu tanto grande da spronare Yokoyama l'anno seguente a creare l'opera che lo rese famoso per aver contribuito alla nascita del genere robotico ed aver gettato le basi delle trame e di quei canovacci essenziali delle storie dei giganti d'acciaio. Stiamo parlando appunto di Tetsujin 28 Go. Divenuto da subito suo capolavoro Tetsujin 28 divenne celebre al pari di Tetsuanatom, Astro Boy, di Osamo Tezuka esordendo come manga nel luglio del 1956 e stampato fino al maggio del 1966 sulla rivista Shonen Magazine, la stessa che, guarda caso, ospitò il manga di Astro Boy, dell'editrice Kobundo e poi successivamente pubblicato in 24 volumi contando ben 97 capitoli. Come abbiamo già detto i robot comunque già esistevano prima di Tetsujin 28 però come abbiamo già detto Tetsujin 28 è il primo cosiddetto super robot gigante appunto a gettare appunto quelle basi di un genere che sarebbe poi esploso negli anni seguenti fino ad evolversi ai giorni nostri. In essa Yokoyama riuscì a trasmettere tutte le sue esperienze che riguardavano in particolar modo la guerra e il disperato tentativo di ridare una speranza al popolo giapponese ormai ferito sia nel corpo che nell'orgoglio. La storia di Tetsujin 28 infatti era ambientata al termine della seconda guerra mondiale. Il governo militare giapponese non potendo far fronte all'offensiva delle nazioni avversarie con le armi convenzionali decise di finanziare lo sviluppo di una superarma capace di proteggere il Giappone dagli attacchi delle potenze nemiche. Tra i tanti candidati venne scelto per tale progetto il progetto del dottor Kaneda, un brillante scienziato che ebbe l'idea di progettare un potentissimo automa gigante d'acciaio quale ultimo baluardo di speranza per la sopravvivenza del popolo giapponese. Quadrivato dal suo assistente il professor Shikishima, dopo estenuanti studi ed esperimenti e dopo ben 27 prototipi falliti, Kaneda riuscì finalmente a portare a termine il suo fadigoso quanto prodigioso lavoro, costruendo un robot chiamato Tetsujin 28 Go. Purtroppo però, verso la fine della guerra, il dottor Kaneda morì per una malattia al cuore, subito dopo aver completato il robot. Il Tetsujin, nato dal genio dell'ingegneria scientifica volta al progresso della robotica, era un colosso d'acciaio radiocomandato che doveva essere utilizzato inizialmente come arma di distruzione di massa. Kaneda però, prima di morire, si rifiutò di consegnare la sua creazione all'esercito, in quanto certo che sarebbe stato usato poi per scopi non pacifici, e preferì quindi donare il robot nelle mani del suo giovane figlio di dieci anni, Shotaro Kaneda, il quale, sebbene la sua giovanissima età, era già un famoso detective nella città di Tokyo. Grazie quindi al Tetsujin 28, Shotaro inizierà una battaglia per combattere la criminalità organizzata ed altri robot creati dai nemici e dai terroristi. Forse in quel momento nessuno se ne era ancora reso conto, ma era nato il primo robot gigante della storia, che avrebbe dato il via ad un fenomeno fantascientifico che rimarrà vivo tutt'oggi nell'immaginario collettivo di milioni di giovani e appassionati. Ma andiamo per ordine. Attraverso il manga di Tetsujin 28, Mitsutero Yokoyama riuscì in un qualche modo a far riflettere la sua visione del periodo della guerra in ogni sua drammatica sfaccettatura, rendendo alcune situazioni molto simili alla realtà, dalle varie cronache di spionaggio, alla divisione in blocco del mondo, dalle vicende della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, alla corsa agli armamenti fino a giungere alle inquietanti testate atomiche che lo stesso Giappone dovette sperimentare a suo malgrado sulla sua pelle e che spazzarono via milioni di vite umane. Lo stesso Yokoyama, come abbiamo già detto, provò in prima persona questa traumatica esperienza quando i B-29 bombardarono la sua città natale. Da un'intervista del 1995 alla Ushio Magazine, Yokoyama disse «Quando era ancora uno studente delle superiori la guerra finì e dopo l'evacuazione tornai a casa nella prefettura di Tottori. La città di Kobe era stata totalmente distrutta, ridotta in cenere. La gente diceva che la causa furono i bombardieri B-29 e, come un bambino, rimasi stupito e terrificato da quel potere distruttivo». Ed infatti la particolarità di questa ristampa, che è la Kanzenban, ossia la versione completa del manga, in questo caso comunque il primo numero, è che al termine del volume è presente un'intervista a Yokoyama e alla sua infanzia in mezzo ai bombardamenti dei B-29 fino alla sua ispirazione artistica per esorcizzare appunto l'orrore della guerra. Ed egli decise di infondere tutto ciò nel suo Tezzo G-28 e non è un caso se il design del robot, sai goffo e approssimato, ricorda una gigantesca bomba con braccia e gambe. L'influenza derivava sicuramente dalle bombe ad altissimo potenziale denominate Wunderwaffen o armi miracolose progettate dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale e capaci di radere al suolo intere città. Ma a parte questo Yokoyama fu sicuramente un genio nel suo genere e sviluppò l'idea per cui il robot potesse essere usato, in questo caso veniva comandato a distanza mediante un potente radiocomando, sia come strumento di salvezza che come mezzo di distruzione in base alla persona che lo comandava. Concetto che in un qualche modo deriva dal racconto di Mary Shelley, ossia il racconto di Frankenstein. Ma che allo stesso tempo, sebbene il robot non fosse dotato di armi ma solo della sua forza meccanica, introdusse l'idea del robot gigante che sviluppava per primo il concetto del dualismo interiore dio-demone che avveniva, seppure ideologicamente, all'interno del robot ossia quella peculiarità per cui il gigantesco robot poteva diventare o un eroe salvatore oppure tramutarsi in un demone spietato a seconda di chi ne prendeva il controllo. Questo toglie sicuramente il primato al Mazinger Z di Goragai che sarebbe nato qualche anno dopo e che avremo modo comunque di approfondire in seguito. Un elemento curioso del manga di Tetsujin 28 è che il robot non fece la sua apparizione per un paio di anni durante la pubblicazione e le vicende erano per lo più un susseguirsi di intrighi e indagini da parte di Shotaro per sventare i loschi piani dei criminali però meglio del radiocomando che lo comandava. Altra nota presente nella storia è la presenza dei precedenti prototipi del dottor Kaneda ossia i Tetsujin numero 27 e numero 26. Senza volerlo Yokoyama introdusse per primo il concetto dei robot costruiti in serie, elemento fondamentale che sarà poi ripreso in altre sue opere celebri come ad esempio Giant Robot. Ma oltre a questi e ad altri robot nemici Tetsujin aveva un altro rivale che divenne da subito famosissimo. Parliamo di Black Ox, robot di colore nero costruito dal malvagio professore Shutein Franken, un tempo collega del dottor Kaneda che costruì in segreto il Black Ox rubando i progetti del Tetsujin 28. Il Black Ox è stato sicuramente uno degli avversari più forti affrontati da Tetsujin 28 tanto da essere più volte riproposto in altre opere di Yokoyama sia come nemico storico che come semplice cameo. Ad aggiungersi tra le schiere di robot nemici che appaiono nella serie di Tetsujin 28, ciascuno con un potere, un armamento particolare, vi sono infatti ad esempio il robot Bacchus dal corpo esile capace di sparare un potente raggio energetico dalla bocca, Monster che è forse il nemico più ricorrente in molte opere di Yokoyama, ossia una sorta di grosso missile con braccia e gambe e la testa a punta marcata un sorriso. I robot colossi della serie Fire come ad esempio Fire Third, particolarizzato dal fatto che essere in grado di sparare a raggi dalle mani e che è sempre coadiuvato da uno stormo di volatili robotici di colore rosso che non si staccano mai dalle sue spalle se non per attaccare in gruppo e difenderlo. Abbiamo poi i giganti Saturn, VL numero 2, Gilbert, il dinosauro meccanico nero Garron, capace di sparare missili dalla bocca e di generare fasci di energia dagli occhi come faceva il Black Ox, il verme meccanico Silkworm e l'inquietante robot nero Robby. In uno dei volumi del maestro, un androide con le sembianze del Frankenstein di Mary Shelley, un omaggio di Yokoyama al personaggio che lo ha ispirato nella realizzazione del suo Tetsujin. I personaggi che appaiono nella storia di Tetsujin sono molteplici, abbiamo già visto Shotaro Kaneda, altri personaggi sono l'ispetto Rotsuka che è il capo della polizia di Tokyo il quale è conosciuto da tutti per la sua grande dedizione al lavoro e che prende molto seriamente, Kenji Murasame, ex ufficiale dei servizi segreti, è un personaggio che cambia ruolo nelle varie versioni ma nonostante tutto in ogni sua apparizione e gli sarà sempre un ottimo alleato sia per Shotaro che ovviamente per il Tetsujin 28. Ad esempio nel manga di Yokoyama Kenji e suo fratello Ryusaku lavorano insieme nella lotta contro la criminalità quando però lo stesso Ryusaku afferma di essere lui stesso tralazzato nella rete criminale. Ciò porterà alla morte di Ryusaku e di un'altra gente, costringendo Kenji Murasame a proseguire le indagini. Egli poi appare per aiutare Shotaro nelle diverse indagini e fornendogli spesso utili informazioni per risolvere alcuni casi. Nell'anime invece egli è già subito un alleato di Shotaro e contribuisce pienamente al compimento delle indagini del ragazzo. Abbiamo poi il professor Shikishima che come già sappiamo è stato l'assistente del dottor Kaneda nella costruzione del Tetsujin 28 ed è il leader della Shikishima Heavy Industries ed è il mentore di Shotaro. Abbiamo poi il superuomo Kelly, un ragazzo americano che venne prelevato in tempo di guerra per un esperimento del dottor Dragnet che sostituì ogni parte del suo corpo con quello di un androide, all'eccezione del cervello che custodisce la coscienza umana e i ricordi di Kelly. Appare nel manga con abiti da investigatore e ricoperto di bende in quanto egli è molto sensibile alla luce. Tra i nemici umani che spesso Shotaro si trova a incontrare vi è Trill Suspense, boss di un clan mafioso americano che si trasferì con la sua banda in Giappone con l'intento di impadronirsi del Tetsujin 28. Egli appare spesso sia nel manga di Yokoyama che nell'anime in quanto desiderosi sconfiggere Shotaro e ottenere il dispositivo di controllo del Tetsujin. L'opera di Tetsujin 28 ebbe un enorme successo in Giappone tanto che nel 1960 venne trasmessa dalla Nippon Television una serie tv drama di 13 episodi. Successivamente il prode Tetsujin esordì come serie animata diretta dalla Yonehiko Watanabe per lo studio Telecartoon Japan nell'ottobre del 1963 fino al maggio del 1966 per il canale Fuji TV per un totale di ben 97 episodi tutti rigorosamente in bianco e nero e che incrementarono ulteriormente e in modo esponenziale il successo dell'opera. La fama di Yokoyama crebbe a tal punto che il mangaka lavorò su molti altri generi non solo fantascientifici ma anche opere di stampo umoristico e persino a sfondo femminile che lo ispireranno a creare la Maho Shoujo, Mahotsukai Sally, nota in Italia come Sally Lamara. Insomma anche se Yokoyama si sia in qualche modo ispirato anche ad alcune opere occidentali ciò non toglie che grazie alle sue creazioni e ovviamente al suo buon Tetsujin 28 sia riuscito a mantenere una propria indipendenza e di conseguenza generare alternative e idee sempre nuove e al passo coi tempi. Due anni dopo l'esordio di Tetsujin 28 altri mangaka e quindi altri robot tentarono di raggiungere il capolavoro di Yokoyama ma di questo parleremo più avanti. Con questo direi che come ampia introduzione al personaggio di Tetsujin 28 può bastare affinché come abbiamo detto anche negli altri video rimanga un video come infarinatura generale per poi comprendere al meglio i futuri video che ci saranno sul personaggio e le opere di Yokoyama. Ovviamente ho cercato di non dilungarmi troppo sebbene comunque l'argomento è veramente ampio ma di questo parleremo più avanti. Come sempre io vi ringrazio per aver seguito la mia recensione se vi è piaciuta lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti. Un saluto e al prossimo video qui su TokuRobot. Ciao!